Il piano regionale di riordino ospedaliero è una realtà, una necessità ineludibile. I sindaci terramani ne sono consapevoli. Comprendo perfettamente, l'ho ribadito nell'addizione dei sindaci la scorsa settimana in consiglio regionale con il governatore, che questa manovra è necessaria, altrimenti non dovrebbero aumentare i ticket e ci sarebbe un disastro ulteriore. Dopo l'audizione all'Aquila in regione, il sindaco di Giulianova Mastromauro ha ritenuto però opportuno riunire tutti i sindaci della provincia di Teramo. Di tutti colori come trasversali sono le responsabilità politiche e non solo, che negli ultimi vent'anni hanno portato la sanità abruzzese al collasso. Il piano imponeva scelte, ma... I numeri di questa manovra, che sono quelli, possono essere formati con una addizione diversa. Io sostengo che siccome i beneficiari di vent'anni di malagestio sono state soprattutto le cliniche private, in questo momento bisogna andare a pescare lì per far pesare di meno sul pubblico. E la sanità privata ad essere presa di mira dai sindaci, perché non sopperisce solo alle carenze del pubblico, ma offre gli stessi servizi che doppia e si fa anche pagare, ed attento solo a servizi dove può trarre maggiori profitti. L'invito di Mastromauro ai colleghi sindaci quindi è di diventare massa critica, lobbies pubblica, per un piano che si può ancora modificare, che può essere di meglio e meno doloroso per i quattro presidi provinciali. Io ho detto a Chiodi, andiamo a riformarlo questo conteggio mantenendo i saldi, cioè andando a togliere al privato per ridare al pubblico.